Prosegue la visita di Kim Jong-un nella porzione orientale del territorio della Russia dopo l'incontro con il presidente Vladimir Putin. Il leader nordcoreano, accompagnato dal ministro della difesa russo Sergei Shoigo, ha potuto visitare alcuni siti militari, in particolare Angar, nei quali sono custoditi caccia e altri aerei da guerra dell'aeronautica, compresi bombardieri Tu-160, Tu-95 e Tu-22, capaci di imbarcare missili a lungo raggio e che sono stati già impiegati nella guerra in Ucraina. A Kim è stato poi mostrato uno dei missili russi di più recente concezione, il Kinzal ipersonico che può essere trasportato da caccia MiG-31. Il leader nordcoreano è quindi salito a bordo di una fregata della marina militare ormeggiata a Vladivostok. La visita fa parte di un progetto di cooperazione militare tra Pyongyang e Mosca, finalizzato da un lato a sostenere il Cremlino nella guerra in Ucraina e dall'altro a sviluppare programmi congiunti nel settore della difesa, un'ipotesi che ha suscitato allarme nelle diplomazie occidentali. Grazie. Grazie. Grazie.